Mi sono chiesto per quale motivo noi si venga considerati un popolo di servi, avete capito bene. Che cosa succede a un italiano che in queste ore esca di casa e vada a comprare per esempio due bottiglie di vino e un po' di pasta? Beh, sapete cosa succede? Gli fanno una multa perché non aveva diritto di andare al supermercato per comprare solo quelle cose. Cosa succede a un italiano che si permette di correre non in prossimità, che non si riesce a capire che cosa sia del proprio domicilio? Si becca una multa. Che cosa succede se un italiano va a fare la spesa in un posto sbagliato rispetto a quello di un'autocertificazione che è cambiata cinque volte e che noi dobbiamo conoscere a memoria? Si prende una multa se non addirittura nel passato, addirittura una sanzione penale. Ecco, siamo un popolo di servi perché se l'italiano subisce le multe per i suoi comportamenti non corretti, cosa dovrebbe subire l'Inps oggi? Quello che è successo è quello che tutti quanti sapevano, che l'Inps non può gestire da solo 14 milioni di domande o di procedure. Guardate, c'avevo un foglio incredibile perché l'Inps deve fare la cassa integrazione, deve fare le indennità, deve occuparsi dei 600 euro, deve occuparsi delle maternità, della Naspi, si deve occupare di 616 milioni di pratiche. Cosa è successo oggi? Oggi i cittadini normali, gli stessi che vengono multati inesorabilmente se non fanno il loro dovere, sono andati sul sito dell'Inps che non funzionava, come era del tutto evidente. Allora io mi chiedo, se noi si viene multati, cosa deve essere e quanto deve essere multato il vertice dell'Inps? Quanto deve essere multato il nostro amico tridico? Quanto deve essere multato il funzionario che ha sbagliato? Perché noi dobbiamo essere multati se sbagliamo? E loro, che sono poi tra l'altro nostri stipendiati, si possono permettere di farci perdere una giornata che è totalmente inutile per ottenere una mancetta che peraltro non si riesce bene a capire come prendere. Tra l'altro abbiamo dovuto fare degli sporsi burocratici, il PIN, il Contropin, la Speed, tutte queste minchiate per aderire a una cosa che poi voi sapete benissimo tutto di noi, dal codice fiscale al numero del conto IBAN. Ma continuo, non abbiamo ancora capito su 600 euro, ad esempio, come verranno dati, perché non andranno a tutti. L'ordine cronologico, diceva una pagina dell'Inps, che è stata cancellata e poi c'era il click day, che poi è stato cancellato, cioè siamo degli schiavi zitti e muti, chiusi a casa, prenderemo la nostra multa se usciamo di casa, ma se mentre siamo a casa, nelle 12 ore, tanto non abbiamo nulla da fare, proviamo a connetterci all'Inps per ottenere la mancetta elargita, octroie, da questo governo, beh, dal sovrano, come le Costituzioni alla fine dell'Ottocento, zitti e muti se non funziona. Ma non mi sembra che questo è un popolo di servi, non di servi, perché lo siamo noi nella nostra attitudine, anche se pensare che si cantava quando ci mettevano alla libertà, ci mettevano negli arresti domiciliari, mi fa sorridere, ma un popolo di servi, perché davanti a una cosa di questo tipo dovremmo pretendere che qualcuno paghi. Come paghiamo noi se sbagliamo? O vi sembra una cosa rivoluzionaria?